I forni professionali Valoriani sono frutto della centenaria esperienza della Refrattari Valoriani, azienda storica di Reggello, tra le colline fiorentine, che vanta la costruzione del primo forno a legna prefabbricato. I forni Valoriani sono totalmente costruiti in azienda, con materie prime di altissima qualità e 100% italiane. La caratteristica principale dei forni Valoriani è la volta nella quale disegno e struttura si fondono perfettamente, rendendola unica e ineguagliabile. Tra i forni professionali per pizzeria Valoriani spicca Iglu, il primo ed unico forno traspirante in grado di scaricare all'esterno l'umidità di cottura e mantenere all'interno tutto il calore prodotto dalla combustione. Il modello Verace, un forno tecnologicamente all'avanguardia, con un sistema brevettato che permette il recupero e lo sfruttamento del calore facendolo circolare ad alta temperatura sotto il piano, con successivo ricircolo all'interno del forno. Al suo interno la temperatura del suolo è costante ed uniforme anche nelle zone lontane dalla fonte di calore. La combustione è regolabile e i consumi sono ridottissimi. Verace, nella versione a legna, è stato il primo e Verace a gas l'unico ad essere riconosciuti ufficialmente idonei per la cottura della pizza napoletana dalla AWPN, Associazione Verace Pizza Napoletana. Di facile accensione ed utilizzo, i forni professionali Valoriani, nella versione a legna o a gas, sono ideali per la cottura della pizza e perfetti per cuocere qualsiasi altra pietanza. Il maestro Roberto Di Massa li ha sperimentati e ne ha tratto notevole soddisfazioni. Per cedere un forno che è già in uso posizioniamo semplicemente della carta che fungerà da combustibile da starter per la legna, leggermente spropicciata su se stessa in modo tale che possa bruciare un po' più lentamente in questo modo. Lo posizioniamo lì dove andremo poi sopra, appoggiare, avvalendoci dell'uso del cavalletto in ferro, la legna. Posizionata la legna, ripeto, in modo da avere quanto più ossigeno possibile tra un pezzo e l'altro, possiamo dare lo start alla carta e creare poi la fiamma che darà il via alla legna. Dicevo, questo per un forno che è già in uso. Contrariamente invece al forno che viene acceso per la prima volta, dove dobbiamo fare particolare attenzione a portare temperatura molto lentamente all'interno della camera, in quanto il forno nuovo tendenzialmente, non essendo mai stato utilizzato, ha ancora una carica di umidità molto importante. Quindi in quel caso daremo poco per volta temperatura e questo è un processo che può durare anche più giorni. Cominciare in questo modo con uno, due, tre, massimo quattro pezzi, dipendono molto dalle dimensioni e della qualità di legna, è il modo migliore. A questo punto la legna comincia a ardere e noi dobbiamo fare altro che aspettare, aspettare che piano piano la temperatura si alzi, l'umidità cominci a lasciare la struttura del forno affinché tendenzialmente avremo la temperatura adatta per poter cominciare a lavorare. Una cosa molto importante rispetto ad altri forni magari più tradizionali che hanno tendenzialmente una dispersione termica molto importante, questi sono forni, i forni naturalmente valida. Quindi mentre l'umidità riesce ad uscire fuori con una certa facilità, se vogliamo, il calore rimane completamente dentro. Quindi bisogna anche in questo caso ricordarsi che il prodotto è diverso, la gestione quindi per forza di cose deve essere diversa. Possiamo essere un pochettino più cauti con l'accensione, quindi con la potenza di calorie all'interno del forno proprio perché questi forni tutto il calore lo tengono dentro. Se gestissimo questo forno così come altre tipologie di forno, come quello tradizionale che ripeto hanno una dispersione termica maggiore, rischieremo di portare eccessivamente temperatura alla platea, quindi al pavimento del forno e rischieremo poi di bruciare le pizze soprattutto nelle prime infornate. Misuriamo la parte esterna, siamo nel caso della legna a 50 gradi, 49,51. Anche qui, in questo caso, possiamo appoggiarci sopra senza alcun problema, sempre per il discorso dell'ottima coibbettazione che questo forno ha. Controlliamo adesso, vediamo che le temperature sono nel range per la cottura di pizza napoletana, la platea è tra i 400 e i 430 gradi, siamo pronti per la prossima cottura. Grazie a tutti! Infatti qui possiamo notare, nonostante l'alta temperatura, quanto pulita sia la pizza sotto e soprattutto non bruciata, se avviato il forno in modo corretto. Sicuramente è più semplice avviare un forno con questa struttura, in quanto, contrariamente all'altro dove bisogna sistemare, posizionare la legna, cercare lo start per la fiamma, qui in effetti basta collegare al sistema di gas e premere il pulsantino che dà la scintilla e avvia all'interno la fiamma. Questo forno è già stato avviato, adesso controlliamo le temperature per certificare che siamo pronti alla cottura. Perfetto! Eseguiremo una cottura per pizza napoletana e chiaramente come per qualsiasi altra tipologia di forno, le temperature in platea variano a seconda della posizione, dove avremo la temperatura maggiore vicino alla zona di combustione, l'altra invece, dal lato opposto, leggermente più fredda. E ancora adesso proveremo a misurare la parte esterna della cupola e per garantire il test la proviamo dalla parte dove tendenzialmente il forno anche all'esterno è più caldo, cioè dalla parte della combustione. Abbiamo detto che a una combinazione questo forno particolarmente valida e obiettivamente possiamo constatare che si aggira la temperatura esterna tra i 38 e i 41 gradi. Praticamente ci possiamo anche poggiare su senza alcun tipo di problema, il calore rimane tutto all'interno. Generalmente per una cottura per pizza napoletana portiamo la temperatura media a 450 gradi, dipende anche dalla tipologia e dalla modalità di cottura che vogliamo sostenere, quando invece la platea la teniamo tra i 4, 4, 20, 4 e 30. In questo caso noi utilizziamo un forno che oltretutto è un forno anche certificato per la cottura di pizza napoletana dall'Associazione Verace Pizza Napoletana, che ha un sistema particolarmente valido per sostenere le cotture, soprattutto quando la mola di lavoro è alta e tende a raffreddarsi il piano, la platea. Con questo sistema noi possiamo scegliere la velocità da 1 a 6, grazie alla quale il forno con il sistema che ha al di sotto della platea riesce attraverso quelle bocchette a raccogliere l'aria bollente e a trasmetterla sotto il piano refrattario di platea. In questo modo la platea viene ulteriormente aiutata a mantenere temperatura e questo è un aspetto particolarmente importante, ripeto, soprattutto quando si eseguono cotture come la pizza napoletana che ha bisogno di una importante temperatura in conduzione. Altra cosa particolarmente importante a mio avviso e avviso dei napoletani è la simulazione di questo forno dell'effetto Pampuglia. La Pampuglia è nel gergo dei pizzaioli napoletani una forma di segatura con una misura media di 2 mm estremamente pulita che viene utilizzata per dare una fiammata improvvisa alla cottura della pizza. Questa è una delle caratteristiche della cottura di pizza napoletana. In questo caso, grazie a questo pulsantino, quindi anche qui tutto è molto più semplice, grazie a questo pulsantino io avvio per 10 secondi la fiammata tipica dell'effetto Pampuglia. Trascorsi 10 secondi ritorniamo all'impostazione originale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.